Allora, mi presento intanto, sono Daniela, scrivo per lavoro, ho un blog personale di cui adesso vi parlerò brevissimamente. Il mio non è un intervento tecnico, è soltanto dedicato a chi non ha ancora un blog e sta pensando ad aprirlo, ci sta pensando magari da molto tempo e per tanti motivi non ha ancora preso coraggio e ha deciso di aprire un blog e quindi questo è attraverso una mia piccola storia vincito ad aprire un blog, tutto qua. E infatti, perché sono proprio convinta che non ci siano troppi blog, come qualcuno dice, c'è sempre spazio per averne ancora. Vi racconto una storia in un minuto che è appunto la storia personale da cui prende spunto questo piccolo intervento. Io sono una persona che per lavoro scrive, sono anche una mamma, ho due bambine. La mia bambina più grande ha sei anni e mezzo e tre anni fa abbiamo scoperto che è autistica. Questo ovviamente ha cambiato molte cose nella vita mia, di mio marito e della nostra figlia più piccola. Ha cambiato anche il mio blog che esisteva già prima che scoprissimo dell'autismo di nostra figlia. Questa è proprio appunto una breve premessa per dirvi da dove parto per fare questo ragionamento. Questo è il mio blog che si chiama La biondella bruna perché ho una figlia molto bionda, una figlia molto bruna. È iniziato nel 2012, l'ho aperto in quel momento e prosegue ancora oggi. Il 17 maggio 2013 è il giorno in cui ho pubblicato il post in cui ho detto che mia figlia era autistica e che da quel giorno in poi sul mio blog avrei parlato di questo argomento. Ma la parte importante sta prima. Cioè il fatto che io nel 2012 avessi creato questo blog e non sapessi in realtà che cosa farmene perché galleggiavo un po' in quel brodo primordiale che è fatto dal mobiblogging dove ci sono tante mamme che scrivono più o meno bene di quello che passano appunto nell'esperienza di essere mamme. Scrivevo dei post che adesso in retrospettiva non sanno né di carne né di pesce e siccome quando lavoro sono molto brava ma quando si tratta di me lo sono molto meno ho capito che ero vittima di queste cose qui che adesso vi dico molto brevemente e che sono cose che riscontro anche nelle persone con cui a volte mi capita di lavorare soprattutto chi sta aprendo un piccolo blog per un piccolo business e ha paura di raccontare quello che fa. Perché le domande che mi vengono rivolte che mi rivolgevo io erano queste. A chi interessa quello che ho da dire? E questo è il portato di un presupposto errato. Cioè il fatto di voler, di pensare di dover parlare al mondo. Non si parla al mondo, si parla a chi ha qualcosa da condividere con ciò di cui noi siamo esperti, ciò di cui abbiamo competenza, nel mio caso l'autismo. Perché volente o nolente sono diventata un'esperta di questo campo e dico quello che appunto vivo quotidianamente con mia figlia. Guarda gli altri come sono bravi. La paura di non essere mai troppo bravi per poter aprire un blog e scriverci dentro qualcosa. La paura del confronto che è assolutamente insensata. è anche questo. Tante persone mi dicono non apro un blog perché io non sono così brava a scrivere. Non sono bravo, non so scrivere, non ho talento. Io da persona che scrive per lavoro non credo nel talento. Credo che ci sia un margine di talento che qualcuno ha, qualcuno non ha. Però a scrivere si impara scrivendo. Non si impara in altro modo. Si impara leggendo e scrivendo. Più si scrive, più si diventa bravi. E quando si ha un blog, dopo tanti anni di blog ci si guarda indietro, è un piacere vedere come la scrittura è diventata qualcosa di bello. Perché vi garantisco funziona. Più si scrive, più si diventa bravi. E poi questa è la domanda delle domande. Ma io che cosa posso aggiungere a tutto quello che è stato già detto? Tutto quello che mille blog, milioni di blog hanno già detto sull'argomento che io vorrei sviscerare. Non importa. Si può fare lo stesso. E si fa sempre partendo da questo assunto. di parlare a una nicchia di persone, delle cose di cui si è competenti, delle cose che si ha voglia di dire. Questa è una ragione, un presupposto più che sufficiente per aprire un blog. Mi guarderanno tutti. È un altro portato di questa paura di parlare al mondo. Non si parla a tutti e non tutti sono lì ad aspettare che noi pubblichiamo qualcosa, tutt'altro. Perché, insomma, qualcuno lo attraiamo, ma il resto del mondo, in genere, si fa un po' i fatti suoi. Quindi di questa cosa non bisogna avere poi granché paura. E poi questo, la paura delle critiche. La paura che qualcuno arrivi e critichi nel merito e non nel merito. e quindi che abbia effettivamente delle critiche da portare e che semplicemente ti lasci un commento dicendo fai schifo, non sai scrivere, ok? Questa è una paura terribile, assolutamente. Però, poi, quando si apre un blog, si imparano delle cose, ok? E questo è quello che ho imparato io e che, in genere, vedo, imparano anche gli altri. Che non si parla a tutti, si parla al pubblico che si sceglie. Che il blog sia personale o di business. La concentrazione sulle persone che abbiamo individuato. E nel mio caso, in Italia, ci sono 500.000 autistici. Di questi 500.000, buona parte, saranno autistici adulti, che non sono le persone a cui io posso parlare. Gli autistici sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi, se io parlo a un autistico che si chiama ad alto funzionamento, super intelligente, Rainman, per intenderci, non sto parlando di mia figlia, non gli sto dicendo niente. Quindi, è proprio uno scavo nel profondo. Io parlo alle persone che stanno vivendo, più o meno quello che sto vivendo io, con un figlio piccolo, che ha certe abilità, e che è capace di fare delle cose e non ha altri tipi di problemi che, invece, altri autistici hanno. Questo è andare nel profondo e scegliere a chi parlare. Che è una cosa che, magari, all'inizio non si capisce, ma, di nuovo, scrivendo, poi, invece, arrivano delle risposte e si capisce chi è veramente il pubblico di riferimento, chiamiamolo così. Come dicevo prima, scrivendo si pensa meglio, si scrive meglio. Ci sono... È uno sforzo, uno sforzo immane scrivere. Però, provandoci e smettendo di lamentarsi, chi mi darà ascolto, a chi interesserà, ma mi diranno che faccio schifo, fregandosene di questa cosa e smettendo di lamentarsi, iniziando a scrivere, si smette di lamentarsi. È automatico. Perché sei impegnato a scrivere e vedi che, poi, non è così terribile il passaggio. Ed è aria fresca. Perché quando stai chiuso nella tua bolla, come dice un infelice spot che sta passando la RAI in questo giorno, che è la giornata mondiale dell'autismo, si incontra il mondo. E la paura di essere criticati diventa, invece, un confronto anche esaltante. E se è in negativo, è una base per costruire qualcosa, per cambiare, crescere ed evolvere. Ed è una cosa che, secondo me, solo un blog può dare, in questo senso. E che cosa è successo? Quando io ho cambiato il mio blog, e che cosa succede quando alcune persone con cui lavoro e che vedo, anche blogger che seguo, e che mi piacciono molto, decidono finalmente di parlare di una cosa specifica, di mettere tutta la loro competenza in questa cosa, finisce che c'è sempre qualcuno a cui interessa quello che hai da dire. Ok? E quindi, se stai parlando al pubblico giusto, il pubblico giusto, in genere, risponde bene, trova degli elementi utili, e questo è un buon riscontro. Si vede nei numeri di un blog, si vede dai commenti, si vede dalle condivisioni, si vede dal risultato, magari, sui social, se si ha voglia di condividere sui social quello che sia da dire. Il resto del mondo, giustamente, se ne è fregato. E questa cosa non mi ha fatto male, come pensavo che mi avrebbe fatto quando ancora non avevo deciso di parlare di questa cosa. Non succede proprio nulla, insomma. Però succedono anche queste cose qua. Succede che, esponendosi, poi arrivano delle belle cose. A me sono successe. E so che succedono a tutti. E' abbastanza elementare. Ricevere questo tipo di feedback che in altri contesti non si riceve. E' ancora diverso che riceverlo su un social. Perché è più intimo. Le persone ti scrivono. Le email sono potenti e comunicano molto di più, secondo me, di quello che ti lascia magari appunto un commento sui social. Il piacere di vedere la propria scrittura apprezzata è veramente appunto quasi esaltante. Peraltro, pur parlando di una cosa che è strettamente personale, ok, io lo faccio per lavoro, per cui forse ha un po' più senso, però succede che parlando delle cose che si conoscono in un blog, poi questa cosa può succedere. Succede che magari qualcuno si interessa di te perché pensa che tu abbia qualcosa da dire anche oltre il blog e che quindi tu possa anche essere pagato per dire queste cose da qualche parte o per metterti o per andare a lavorare con qualche azienda o per lavorare e trovare qualcuno con cui collaborare. Può succedere. Qualcuno non avrà interesse e oltre a non avere interesse invece di passare e andarsene farà questa roba qua. Lascerà qualche commento, scriverà una mail molto negativa. A me è successo, mi succede tutti i giorni, però di nuovo fa meno male di quello che pensavo avrebbe fatto prima che iniziassi a metterlo nero su bianco sul mio blog. Insomma, si sopravvive anche all'apertura di un blog, anzi, si sopravvive molto bene e il piacere di scrivere aumenta post dopo post. Soprattutto il piacere di rendersi utili perché quando si hanno delle competenze è bello metterle a disposizione, non bisogna temere di farsi fregare diciamo così, dei segreti del mestiere e tutt'altro. Sia che si parli di cose personali sia che si parli di cose lavorative. Condividere arricchisce e aumenta il proprio valore, quello che le persone percepiscono dal di fuori. Per cui non ci sono troppi blog e se state ancora aspettando di aprire il vostro, fatelo. Fatelo su wordpress.com che in cinque minuti siete online, non avete bisogno di fare nulla di tecnologico e siete veramente, avete aperto la vostra finestra sul mondo. a me è successo e incoraggio tutti quelli che ci stanno pensando a fare altrettanto. Grazie mille. Grazie mille. Non pensare neanche di allontanarti da... Non devo neanche più dire niente. Sì, io ti faccio una domanda che forse ti fanno spesso. Quanto spesso? Perché io ho un blog, per esempio, l'ho iniziato un anno fa, era nato come un blog di viaggio, poi il viaggio è terminato, mi sono creato un mio pubblico, poi tornando, ovviamente, viaggiando più, non avevo più così tanti contenuti, però mi spiaceva chiuderlo, e quindi però scrivo di meno, inevitabilmente, però, come dire, volevo sapere da tempo... È diventato un piacere personale scrivere questo blog? Sì, sì, lo faccio volentieri, però scrivo molto di meno, perché scrivo solo quando ho qualcosa veramente da dire. Quindi... Quando ho qualcosa da dire è il ritmo giusto, sempre che non sia una volta ogni sei mesi. No, 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 certo, no. Secondo me, in questi casi, quando hai qualcosa da dire, è il ritmo giusto, perché poi anche... A meno che non si abbia veramente un progetto su cui è il caso di sviluppare veramente un piano editoriale, cosa che magari ti invito a fare, poi anche pensando... Perché il problema è che non avendo un minimo di programmazione spesso si rimanda e si aspetta l'idea fulminante per pubblicare qualcosa. Invece, facendo un minimo di riflessione alla base, qualche argomento nasce prima e si è in grado veramente anche solo di appuntarselo, senza fare un vero e proprio piano editoriale, ma apri Google Keep e ti sendi due appunti e poi su quella roba vai avanti. Questo forse è l'approccio migliore, se per qualsiasi motivo questa cosa non riesci a farla, perché hai un altro lavoro, sei molto impegnato e tutto quanto, quando hai qualcosa da dire rimane... È in base a quello che ci vuoi fare tu col blog. Nell'ottica di aprire e gestire un blog che debba poi portare dei risultati, quindi non più, insomma, un blog chiamiamolo tra virgolette amatoriale, quanto è difficile trovare un equilibrio tra la reale scrittura e una scrittura in chiave SEO ottimizzata per il web, perché questo è un... Ci vorrebbe... Ci vorrebbe Tatiana Schirinzi che ha parlato stamattina. No, perché per chi scrive... Sì. Io personalmente scrivo, quindi mi rendo conto che se devo raggiungere poi dei risultati la scrittura cambia. Assolutamente. E come a quel punto è possibile trovare un equilibrio tra la vera, tra virgolette, scrittura e quella per il web? Ma è difficile, cioè, è veramente... È complicato, perché è il passaggio tra il farlo per professione e il farlo per... Io quando scrivo per professione sono guidata dai SEO, per cui... Ed è una cosa che apprezzo molto perché mi dà struttura e non mi lascia, diciamo così, in balia dei capricci anche magari del cliente, ok? Quando si va sul personale la qualità della scrittura diventa una cosa molto difficile da misurare ma anche personalmente, ok? Perché non ti nego che quando io scrivo questo blog per abitudine professionale un pensiero al SEO lo faccio, io sto attenta ai titoli che do ai miei post, ok? Però, diciamo così, secondo me facendo un piccolo lavoro SEO al principio, quindi pensando a qualche keyword, studiando un po' chi fa già questa cosa, chi è posizionato bene rispetto a quello che puoi fare tu e decidendo, diciamo così, i macro argomenti attorno a cui muoverti poi la tua scrittura è in grado di fluire abbastanza naturalmente. Certo che come intraprendi, diciamo così, un'ottica professionale forse invece bisogna fare un pensiero molto più... però io credo fermamente che si possa scrivere senza snaturarsi, ok? Se scrivi per te, se scrivi per qualcun altro ovviamente è tutto un altro discorso, ma se scrivi per te credo che si possa trovare un buon equilibrio, però anche questo equilibrio nasce dallo scrivere molto, ok? Nasce dalla... io in questo blog non scrivo tanto, però sono abituata a scrivere perché lo faccio tutti i giorni per altre... invece scrivendo per se stessi, se si fa solo quello, diciamo, come pratica di scrittura, nel tempo, secondo me, poi si sviluppa una mentalità per cui si riesce a mantenere un occhio all'asseo e senza appunto... senza diventare una cosa illegibile poi, perché se scrivi solo per... veramente non stai aggiungendo nulla di valore a quello che hai da dare. È un'opinione personale, insomma, basata su quello che vivo con questo blog personale. Ok, siamo... abbiamo quattro minuti per il prossimo speaker, quindi prendiamo l'ultima velocissima che la Marano voleva fare e poi si è adatta alla macchia. Su. Beh, io ti conosco, sei una delle mie più care amiche, quindi diciamo che... La mia domanda è al tempo stesso un complimento, un incoraggiamento a tutti a scrivere di tutto e non vergognarsi, non... è vero, meglio un blog in più che uno in meno. consigli, altri consigli, ci sono delle cose che non scriveresti mai, ci sono delle cose che ogni tanto dici cavoli, questa cosa la scrivo perché lo sappiamo tutti che scriverò una terapia per noi stessi, prima di tutto. Scrivo e poi qua mi fermo. Sul mio tema specifico, sull'autismo, io non mi esprimo sui temi generali, quindi non ho nessun bisogno di farlo, il mio è un racconto personale, quindi non ho bisogno di spiegare se penso che i vaccini causino l'autismo, se penso che l'omeopatia abbia un valore nelle terapie per l'autismo, perché quello è cercarsi dei guai. E comunque le persone che mi scrivono sono interessate a quello che io vivo, non ha la mia opinione su temi generali. quindi questa cosa a meno che, poi è una scelta personale, io potrei anche andare a dire in giro che non credo che i vaccini causino l'autismo perché questa cosa mi fa proprio arrabbiare e quindi ho deciso di intraprendere una battaglia, però secondo me lì sposto completamente il centro del mio blog, quindi questa è una cosa che io non faccio, non perché sono pavida, questo no, ma perché non mi interessano nel tipo di racconto che faccio. Bene, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.